Ciao a tutti da Manuel! Oggi vedremo come stuccare un buco su un muro ruvido, quindi tonacato a civile. Per prima cosa spingiamo bene il fischer dentro il buco con un cacciavite. Successivamente stucchiamo il buco con del gesso, come prima passata. Appena asciutto dopo 5 minuti lo rifiniamo questa volta con dello stucco. Ora prepariamo un fondo grip che applicheremo dove abbiamo stuccato il buco. Questo replicherà la granulosità della parete, quindi il buco andrà a nascondersi e non vedremo il classico effetto liscio. Andiamo a preparare il nostro buco stuccato dando una carteggiatina con una grana 100-120. Come potete vedere la stuccatura ora è liscia, mentre il muro risulta ruvido. Andiamo quindi ad applicare il nostro fondo grip. Con questo fondo granuloso la stuccatura ora tenderà a mascherarsi perfettamente. Se questo video vi è risultato utile, mi raccomando, spennellate il bottone del mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!